Mangia di Marco, frega la salutina Ma è al contrario, coglione Ragazza,ナi氣 psicologici La marchetta è di qualcosa? Ah, ma è in video, davvero Di Daniel, la riscosta è Non troppo altra Ah o Profila Campuchino Chi'è pronto? Che arriva quello di tu? Nooo. Non c'è arriva Gli scaricati li hagi su computer Tutti che? la gente che dorme un'altra persona che dorme Simona Culo per me sono 2.000 kilobytes questa è ancora riprendendo te cornudo tu sei un cornudo cornudo un minuto e quaranta scusami questo è un raggio che riprende lei che dorme guarda la gente che si nasconde qua guarda se ti riprendono sul cazzo tuo guarda 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 Marco guarda guarda